Un fortunato evento astronomico, ovvero l'occultazione di Io, uno dei satelliti del pianeta Giove da parte di Europa, un'altra luna del gigante del sistema solare, ha permesso a un team internazionale di scienziati di osservare con il Large Binocular Telescope in Arizona un gigantesco lago di lava su Io, riuscendo perfino a identificare le sorgenti e i percorsi di due diverse onde di magma che formano e rinnovano la sua superficie. I ricercatori guidati da Catherine DeCleer dell'Università della California Berkeley hanno sfruttato il fenomeno astronomico avvenuto l'8 marzo del 2015, identificando con precisione nella banda dell'infrarosso termico il segnale dal magma incandescente presente sulla superficie di Io. L'impresa è stata possibile grazie alla grande ampiezza degli specchi principali di LBT, che misurano 8,4 metri di diametro ciascuno, al suo sofisticato sistema di ottica adattiva ideato all'INAF e un raffinato metodo di elaborazione dei segnali raccolti. Io e la sua poderosa attività vulcanica erano stati già studiati, sempre con il telescopio LBT, di cui l'Italia con l'INAF è uno dei partner, da un gruppo di scienziati tra cui Carmelo Arcidiacono, ricercatore dell'Istituto Nazionale di Astrofisica a Bologna. Nella notte tra il 7 e l'8 marzo 2015 i nostri colleghi americani hanno avuto la rara opportunità di osservare la muta occultazione di Io da parte di Europa. Durante l'occultazione, con le osservazioni dell'infrarosso termico, vediamo come Europa appaia come un disco scuro, essendo coperto da una spessa colta di ghiaccio, mentre Io appare come brillante e ricco di dettagli per via della sua intensa attività geologica. Dall'analisi dell'intensità sono riusciti a capire che l'Ochipatera appare come un'isola fredda circondata da un anello di lava caldo in raffreddamento. In particolare si vede come nella regione a nord-ovest appaiono due sorgenti che in epoche differenti e con velocità differenti emettono un flusso di lava che dalla parte ovest si ricongiunge sulla parte diametralmente opposta a est. È interessante notare come le due velocità differenti corrispondono a due meccanismi di alimentazione differenti e che quindi nascondono un processo più complicato all'origine del fenomeno. Nel frattempo le osservazioni e gli obietti continuano e siamo pronti per nuovi e più interessanti dettagli.